I pescetariani sono individui che seguono una dieta vegetariana che include il pesce e altri prodotti ittici, ma esclude la carne di altri animali, come carne rossa, pollame e cacciagione. Inoltre, alcuni pescetariani includono uova e latticini nella loro dieta, mentre altri possono essere più restrittivi. Questa scelta alimentare è spesso motivata da considerazioni etiche, ambientali e di salute. I pescetariani cercano di ridurre al minimo il consumo di carne e derivati animali mentre includono fonti di proteine magre e acidi grassi omega, tre presenti nei pesci. Questa dieta può fornire benefici per la salute, come una riduzione del rischio di malattie cardiache e diabete, ma richiede attenzione per garantire un'adeguata assunzione di nutrienti essenziali.